Ti è chiaro cos'è? Punto F attraverso Francesca R, 7 gennaio 2023, a cura di VB, Michel. Ti è chiaro cos'è il moto vibrazionale? Fabrizio, sì. Michel, quello che è il desiderio è la parte, diciamo, iniziale, visibile dell'onda, del movimento vibrazionale. Il desiderio è la spinta che ti porta a cercare una creazione. Quella spinta ti porta nel processo evolutivo verso il ricongiungimento di tutto il moto vibrazionale, non solo tuo, ma di tutti, fino ad arrivare all'essere. Quindi, seguendo quel desiderio, quel moto, quella spinta, tu inizi a creare e plasmare la materia che ti circonda il tuo cammino evolutivo. È più semplice così? Fabrizio, sì. Quindi è come se fosse un istinto a tornare, diciamo, alla fonte? Michel, dillo, esatto. Ma non è un istinto. Quello che è in te è la fonte, solo che è coperta 40 minuti e 33 secondi. Fabrizio, dobbiamo riappropriarci della nostra origine divina, insomma. Michel, andare oltre il divenire, quindi essere l'essere. Bene, vedo che avete compreso. Qualcuno ancora si ferma a livello mentale, però ha compreso a livello più profondo. Qualcuno ancora? Grazie a tutti